Potremmo dire due cose importanti, la prima dico che abbiamo fatto un piccolo impegno economico riguardo a tre bambini, che è una situazione di un dato familiare e sociale importante, che è un dato molto diverso. L'altro è il fatto che gli incogni si sono rimuovendo i primi passi dal suo quarto fondo, basta pensare che gli incendi del comune hanno una sola parte a questo fondo e per ultimo chiaramente l'assessore inizia, risparmiando una certa cifra, che ha devoluto questa cifra a questo fondo, l'espressione chiaramente di una città che secondo me è quello che è importante, che chiaramente si raccolga attorno a quella della solidarietà e del sociale per dare risposte in un momento come questo che possono consentire a noi, questa società, questa città e specialmente a noi, di raggiungere chiaramente gli obiettivi importanti, di lasciare una traccia meno, quindi meno, una cicatrice meno indeleble a livello della loro situazione psicologica. Dobbiamo dire questo, Caritas, Comune, insieme ai giovani dei quartieri, insieme al gruppo di un bosco, ha organizzato questo pranzo. Caritas lo fa tutti i giorni, di conseguenza quando ci si muove in un terreno, di quegli altri, di veramente, si sono già mossi e hanno esperienza nel farlo, la cosa importante è quella di non disperdere energia, basta concordare l'impegno perché avremmo potuto fare una cosa ben precisa, un Natale, va bene, sotto a chiesa e il primo dell'anno a Caffè di Costante e questa è la mia affermazione che ho scritto anche sul giornale di oggi.